La Sestito Academy of Martial Arts è una palestra e accademia nel settore dell'insegnamento arti marziali, difesa personale e preparazione atletica, grazie alla professionalità e competenza ventennale del maestro Vitaliano Sestito. La Sestito Academy si trova a Bastia Umbra in provincia di Perugia, punto di riferimento per gli appassionati e gli sportivi che vogliono un personal trainer e una consulenza individuale nel settore arti marziale. Quindi ti aspettiamo in zona industriale Via dei Tilti numero 17 a Bastia Umbra Perugia, Sestito Academy of Martial Arts ASD, telefono 338 5407090, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 22, il sabato dalle ore 9 alle ore 18. Amici carissimi dell'Umbria Verdi già da salve a tutti, un nuovo appuntamento e parleremo di allenamento e arti marziali. Naturalmente tutto questo grazie alle risposte del maestro Vitaliano Sestito. Maestro, oggi parleremo di educazione fisica. Per lei è un percorso ventennale, un diploma da 110 su 110 elode. Quindi iniziamo subito di che cosa si occupa l'educazione fisica. Grazie di essere qui, è un piacere collaborare insieme a voi per diffondere e promuovere quelle che sono le linee guida della Sesto Academy con sede a Bastia. L'educazione fisica per me è un concetto, un concetto importante su quale si basa tutto il lavoro fatto dalla Sesto Academy ASD. Significa dare una sorta di cultura alle persone per dare la possibilità appunto di avere un nuovo messaggio per quello che riguarda l'attività motoria. L'attività motoria non è solo sport, ma è soprattutto uno stile di vita, uno stile di vita che parte dal movimento, passa per l'alimentazione e arriva anche a un pensiero positivo. Questo è quello che noi facciamo e questo è quello che per me è gli studi e il continuo aggiornarmi appunto sull'educazione fisica stessa. La Sesto Academy non si occupa solo di arti marziali, ma si occupa appunto di motricità e quindi anche di allenamento, inteso appunto come capacità di fornire a chi viene la migliore via possibile per ottenere dei risultati appunto fisici. Che cosa si intende per educazione fisica? Per educazione fisica si intende appunto la capacità di educare, cioè di dare all'atleta o comunque al praticante o comunque anche a chi non ha mai avuto esperienza la possibilità di avere dei fondamenti sul movimento che passano appunto per un concetto un po' più largo che quello dell'allenamento funzionale che noi promuoviamo qui. E quali sono, maestro, i principali esercizi? Beh, diciamo che ci sono delle aree che vengono trattate e queste aree partono dalla ginnastica, dal sollevamento, quindi dalla capacità di alzare un peso e altre caratteristiche che sono appunto la capacità di allenare la velocità, la forza e quindi tutto questo dosato appunto per chi non ha mai avuto esperienze e piano piano inizia a fare un percorso di tipo atletico. Benissimo, noi ringraziamo il maestro italiano Sestito per deludici d'arci delle nostre domande per l'allenamento e arti marziali. Vi ricordo che la Sestito Academy si trova in Via dei Tigli numero 17 nella zona industriale di Bastia Umbra, Perugia. www.sestitoacademy.it Ci trovate in Facebook 338 5407090, chi volesse parlare direttamente con il nostro maestro e vi ricordiamo che la Sestito Academy è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 18.